La rapa gigante. C'era una volta un vecchio che viveva con sua moglie, il loro nipote, un piccolo cane marrone, un minuscolo gatto bianco e un topo dal naso rosa, in una grande e vecchia casa colonica. Un giorno l'uomo disse a sua moglie, cara moglie, ho intenzione di piantare un seme di rapa, quando diventerà bello grande faremo una deliziosa zuppa di rape. Prese il seme e lo piantò in un fazzoletto di buona terra nell'orto, ogni giorno lo andava ad innaffiare. Quando vennero i lampi e i tuoni, le gocce di pioggia danzarono su di lui e quando il sole splendette, gli mostrò i suoi meravigliosi raggi e lo riscaldò. Diventa grande mio piccolo seme, diceva il vecchio ogni giorno, finché un giorno spuntarono due piccoli germogli, diventando ogni giorno più grandi. Un bel giorno l'uomo seppe che era giunto il momento, cara moglie, stasera si mangia zuppa di rapa, disse, e mise una grande pentola d'acqua a bollire. Andò in giardino e si chinò, afferrò i germogli e cominciò a tirare, e tirò, e tirò ancora, ma la rapa era ben salda. Chiese a sua moglie, cara moglie, per favore, vieni ad aiutarmi a tirare la rapa. Così la nonna teneva su il nonno che aggrappò i germogli e insieme entrambi tirarono e tirarono, ma la rapa continuava ad essere ben salda. Così chiamarono il loro caro nipote. Caro nipote, vieni ad aiutarci a tirare la rapa? Chiesero. Così il nipote teneva la nonna che teneva il nonno che teneva i germogli e tutti tirarono e tirarono, ma ancora la rapa era ben salda. Così il nipote chiamò il cane di famiglia che lo tenne su, mentre teneva la nonna che teneva il nonno che teneva i germogli e tutti insieme tiravano e tiravano, ma la rapa rimaneva ben salda. Così il cane di famiglia chiamò il piccolo gatto che lo tenne su, mentre teneva il nipote che teneva la nonna che teneva il nonno che teneva i germogli e tutti insieme tirarono e tirarono e ancora tirarono, ma la rapa rimaneva ben salda. Così il gatto di famiglia chiamò il dolce topo dal naso rosa che lo tenne su, mentre teneva il cane di famiglia che teneva il nipote che teneva la nonna che teneva il nonno che teneva i germogli e tutti insieme tirarono e tirarono e tirarono ancora e la rapa cadde sopra il nonno che cade sulla nonna che cade sul nipote che cadde sopra il cane marrone che cadde sopra il gatto bianco che quasi quasi schiacciò il piccolo topo rosa. Il nonno si alzò e si scrollò la polvere di dosso e poi tutti si pulirono a vicenda. Poi il nonno portò la rapa in cucina dove la tagliò in tanti piccoli pezzetti, aggiunse alcune erbe e spezie, un po' di questo e un po' di quello e in poco tempo la zuppa di rape fu pronta. Tutti loro, nonno, nonna, nipote, il cane di famiglia, il piccolo gatto e naturalmente il dolce gentile topolino rosa sedettero a mangiare e scoprirono una zuppa deliziosa proprio come se l'erano immaginata. Fine.